Ciao sono il dottor Asado e oggi faccio una punta di petto affumicata. Oggi faccio la cottura più lunga che io abbia mai fatto, oggi faccio un brisket ed è un piatto tipico del Texas, è un piatto famosissimo del barbecue americano e come probabilmente sapete se mi seguite avete visto altri miei video, io conosco molto meglio la grigliata sudamericana perché sono nato in Argentina e poi ho vissuto anche in Paraguay, ho vissuto in Brasile quindi conosco di più la cucina sudamericana ma ogni tanto mi piace anche variare, provare delle ricette in stile americano, sono stato tante volte in America anche se non studiando barbecue, le ho anche assaggiate e le cose che mi piacciono poi provo a farle, solo che io non avevo un vero e proprio affumicatore, quindi qualche volta facevo delle affumicature con il classico barbecue con il coperchio ma non avevo un vero e proprio affumicatore. Allora ci sono diversi tipi di affumicatori, ci sono quelli verticali ma quelli più classici sono quelli che chiamano offset, che sono quelli sfalzati che hanno un bruciatore un po' più basso in cui si brucia la legna e poi il fumo sale e passa attraverso una camera in cui si mette la carne ed esce da una canna fumaria dall'altro lato. Io non avevo un affumicatore del genere, per un po' ho pensato di prenderne uno, solo che quelli fatti bene costano tanto, prendere uno molto scarso magari non aveva tanto senso, allora ho pensato di costruirmi in muratura un forno che possa fare sia da forno che da affumicatore e oggi lo userò per la prima volta, proveremo a fare questo test facendo subito un brisket. Poi se vi interessa più avanti fare un video spiegando come l'ho fatto e come funziona il mio forno slash affumicatore. Il brisket o punta di petto affumicata è una ricetta molto semplice ma che richiede una cottura molto molto lunga. Di solito un pezzo intero pesa tra i 4-4,5 kg e i 5-6 kg ma può arrivare anche agli 8 kg a seconda delle dimensioni dell'animale e come dice il nome in italiano proviene proprio dalla punta del petto. È un pezzo di carne composto da due muscoli e di solito sono pezzi molto tenaci quindi non vengono usati molto nella cucina italiana. Facendo però una cottura molto molto lunga si riesce a renderlo molto tenero e molto saporito. Per l'affumicatore di oggi io userò il faggio. Negli Stati Uniti usano diversi legni a seconda delle regioni, di solito usano sempre legni locali e io qui siccome è quello che trovo più facilmente in commercio è il faggio ho deciso di usare il faggio. Potevo magari usare qualche legnetto che ho di icori o di altri legni più famosi, più utilizzati per le affumicature ma ho deciso di non usarle, usare soltanto il faggio perché il faggio è quello che trovo più facilmente nella mia zona, quello che troverò in commercio anche a meno e quindi volevo provare come viene la fumicatura fatta soltanto col faggio. Da quello che ho letto dovrebbe essere una fumicatura abbastanza leggera o media, non molto forte e siccome a me la fumicatura molto molto intensa non piace tantissimo ho detto proviamo al massimo, la prossima volta ci aggiungerò magari qualche legnetto di icori, ciliegio o qualche legno da frutto insomma. Prima di tutto la prima cosa che ho fatto è stata accendere il fuoco per far scaldare piano piano il mio affumicatore. L'idea è fare una cottura molto lenta quindi il mio affumicatore deve avere una temperatura interna dell'incirca 120-125 gradi o almeno quello che cerco io in questo caso. Poi sono andato subito a tagliare il brisket. Oggi ho un brisket di Angus proveniente dal Canada. Il brisket è composto da due parti. C'è questa parte qui che è il muscolo di sotto che è la parte piatta che in inglese chiamano flat che vuol dire appunto piatto e poi c'è la punta che è questa parte qui che è più grossa e ha anche più grasso. Vedete quanto è marezzata questa parte della punta? Di solito è la parte più buona. In mezzo però fra i due muscoli c'è questo strato di grasso molto grosso, molto consistente. Siccome fare una cottura molto lenta a temperature basse non si riuscirà a far sciogliere bene tutto tutto il grasso. Quindi bisogna cercare di togliere un po' di grasso e lasciare la quantità giusta in modo che venga bene e non sia troppo troppo grasso. Quindi partendo da questo lato la prima cosa che farò sarà rimuovere un po' di questo grasso che abbiamo qui che è un pochino troppo. L'idea è lasciare giusto qualche millimetro di grasso. Invece tutti i punti in cui trovate più grasso più di qualche millimetro e anche nei punti in cui trovate delle sacche di grasso vanno di solito ripulite e poi vanno ritagliati tutti i bordi del brisket in modo che non ci siano dei punti sporgenti. Bisogna cercare di renderlo tra virgolette aerodinamico perché con una cottura così lunga tutte le parti sporgenti si bruceranno, si seccheranno o non verranno buone. Allora qui questo è lo strato di grasso che separa i due muscoli. Quindi posso tagliare fino a un certo punto ma poi lo devo lasciare perché mi serve come struttura. Se continuo a rimuovere e rimuovere finirò per separare entrambi i muscoli. Quindi quello lo taglio fino a un certo punto e poi lo devo lasciare. Una volta tagliato e ripulito il mio brisket bisogna condirlo. Il brisket di solito si condisce soltanto con sale e pepe. Almeno la ricetta classica texana prevede che si usi soltanto sale e pepe. Quindi oggi userò soltanto sale e pepe. Odo il sale medio ma il pepe che avevo era già macinato fine quindi ho usato il sale medio e il pepe fine. Adesso inserirò il mio meter più o meno qui perché vorrei la temperatura più o meno qua al centro ma al di sotto di questo muscolo. Vorrei la temperatura della parte piatta, del muscolo piatto. Questo è un termometro che prende la temperatura sia dentro la carne che fuori e a questo punto a me interessa soprattutto la temperatura fuori perché devo tenere monitorata la temperatura dell'affumicatore per capire quando devo aggiungere più legna. La cottura è molto lunga ma è anche abbastanza semplice nel senso che se teniamo monitorata la temperatura l'unica cosa che bisogna fare è quando inizia a calare aggiungerci un altro pezzettino di legna. E questo l'ho fatto per circa otto ore. Ho impostato sul lab del meter un allarma che suonava se la temperatura saliva al di sopra di 4-5 gradi la temperatura che volevo mantenere o se scendeva al di sotto di 4-5 gradi quella temperatura. E quindi ogni volta che scendeva la temperatura andavo ad aggiungere un po' più di legna e se si alzava troppo andavo a togliere un po' di legno o a smuoverlo un po' oppure piantarla in mezzo alla cenere in modo che si abbassasse un po' la temperatura. Una delle cose più importanti durante la fumicatura è mantenere il fumo pulito. Questo cosa vuol dire? Che dovete vedere dalla canna fumaria che esce del fumo bianco chiaro e quel fumo si produce quando la temperatura nel bruciatore è molto alta. Cioè praticamente per dirlo in parole semplici ci vuole la legna che brucia con la fiamma. Noterete che appena si inizia a spegnere la fiamma la legna inizia a fare il fumo più scuro e che lascia un gusto molto forte che può essere un po' sgradevole. Il brisket l'ho messo dentro l'affumicatore con la punta, la parte più grossa, puntata verso il bruciatore quindi puntata verso le fiamme da dove c'è la bocchetta che collega il bruciatore alla camera di affumicatura. Poi ho messo sotto una vaschetta con un po' d'acqua per evitare che la carne si secchi troppo. Quest'acqua dovrebbe piano piano evaporare e mantenere un po' di umidità all'interno del mio affumicatore e così l'ho lasciato per circa tre ore controllando soltanto la temperatura interna aggiungendo regolarmente della legna ogni volta che c'era bisogno. Dopo queste prime tre ore ho aperto lo sportello dell'affumicatore, ho tirato fuori la carne per vedere come stava andando e l'ho spruzzata con un po' di succo di mela. Allora questo spruzzo che di solito fanno gli americani e lo consigliano si fa più che altro per abbassare la temperatura della carne. L'idea è bagnare un po' la parte esterna della carne per evitare che si secchi troppo o che bruci. Quindi di solito consiglio di bagnare soprattutto gli angoli, le punte, tutti quei punti che vedete che stanno diventando troppo secchi troppo velocemente. Quindi all'incirca ogni ora ho aperto lo sportello, ho tirato fuori il pezzo di carne e spruzzato un po' di succo di mela nei punti in cui mi sembrava che ci fosse bisogno. Ma in realtà un po' dappertutto. E così sono andato avanti per all'incirca altre cinque ore. E verso la fine però ho iniziato gradualmente ad aumentare un po' la temperatura cercando di raggiungere i 130 e poi i 135. Questo perché c'è un punto nella cottura in cui la carne si inizia a scaldare molto anche all'interno e i liquidi iniziano ad evaporare. Questi liquidi che evaporano in realtà raffreddano di nuovo la carne e si arriva a quello che chiamano una fase di stallo in cui la carne magari ha raggiunto i 68 gradi o i 70 all'incirca e poi oltre questa soglia si fa fatica a continuare a scaldarla perché i liquidi che evaporano raffreddano poi la superficie e quindi mantengono la temperatura interna stabile più o meno in quella soglia. Per superare questa fase di stallo quindi ho iniziato ad aggiungere un pochino più di legna in modo da aumentare ancora di più la temperatura arrivando come dicevo all'incirca ai 135 al massimo 140 gradi e dopodiché una volta superata questa fase quando ho notato che la temperatura interna è tornata a salire stava arrivando all'incirca agli 80 gradi interni a quel punto ho tolto il pezzo di carne dal forno e l'ho avvolto nella carta. A questo punto uno può anche finire la cottura senza avvolgerla nella carta però ci metterà molto di più perché l'obiettivo è portare la carne all'incirca ai 90-95 gradi cioè bisogna portare la carne fino a un punto in cui si scioglie completamente il collagene e la carne diventa molto tenera. Però senza chiudere la carne senza avvolgerla ci si mette molto molto tempo e si rischia anche di seccare un po' la carne quindi la maggior parte della gente l'avvolge. Io ho preso su internet questa carta che chiamano carta da macellaio che è di solito quella che utilizzano per questo tipo di cottura oppure si usa anche l'alluminio. La differenza è che avvolgendo la carne con l'alluminio i liquidi rimangono tutti all'interno e tutta quella crosticina croccante che si è formata durante la fumicatura diventa più tenera, diventa più morbida e fa un effetto un pochino più da bollito tra virgolette all'interno. Invece avvolgendo la carne nella carta riusciamo ad aumentare più velocemente la temperatura interna i grassi rimangono all'interno perché la carta li contiene però è anche traspirante quindi fa passare un po' di umidità e si evita di rovinare la crosticina che era diventata croccante all'esterno. A questo punto però ho tirato fuori il termometro dalla carne perché da qui in poi non mi interessa più la temperatura né del forno di preciso né della carne perché da lì in poi volevo andare a tatto quindi ho messo la carne in forno, ho aggiunto un po' più di legna adesso eravamo attorno ai 140 gradi ho continuato ad aggiungere legna ogni tanto per un'altra oretta, oretta e mezza circa e dopo ho smesso ad aggiungere legna e ho lasciato piano piano che il mio forno si raffreddasse. Dopo tre ore circa ho iniziato ogni tanto a controllare la durezza della carne cioè basta prenderla con le mani ho preso uno straccio prendendo la carne tra le mani ho cercato di sentire quanto era morbida quanto era tenera all'interno quando ho sentito che non era ancora abbastanza tenera l'ho rimessa nell'affumicatore e così ogni circa 20 minuti ho sempre riprovato a testare finché non ho sentito una tenerezza che mi sembrava quella giusta a quel punto ho tolto la carne dall'affumicatore e a questo punto l'ho fatta riposare ancora per circa un'ora così chiusa nella carta come è alcuni consigliano di aprire la carta a fare riposare la carne all'aperto altri consigliano invece di mantenerla chiusa io stavo seguendo le indicazioni di un famoso esperto di barbecue americano che consigliava di farle chiuse quindi anch'io questa volta ho lasciato il mio brisket riposare all'interno della carta e adesso è già passata quest'ora quindi sono molto curioso adesso apriamo questo brisket vediamo com'è venuto e soprattutto me lo mangio che ho tantissima fame allora prendiamo l'altra telecamera la prima cosa sarebbe fare un taglio qui contro fibra così allora questa è la puntina che è secca ecco vedete c'è un bel anello rosa intorno che è quello che lascia il fumo e poi all'interno invece la carne è ben cotta come tenerezza mi sembra giusta dicono che per essere giusta deve tenersi su se stessa la fettina non deve cadere sul suo proprio peso ma invece deve anche sfilarsi molto facilmente allora il flat la parte piatta secondo me mi è venuta un tantino secca è un pezzo che è abbastanza secco ma mi è venuto un pochino secco per il mio gusto cioè poteva venire un pochino più umido però quello che mi interessa è questo la parte invece della punta quindi la parte con più grasso mi sembra venuta molto bene è molto molto succosa ed è di solito la parte più buona quindi adesso proviamo questa di solito deve essere tagliata un pochino più grossa perché sennò le fettine si spaporano perché a questo punto la carne è molto più tenera adesso prendiamo un pezzettino della punta e assaggiamo buonissima questa sì che è buona è molto molto succosa molto succosa poi si separa proprio spettacolare guardate qui come si disfa cioè si tiene cioè se la tengo così se la tengo così si tiene con il suo peso però se faccio così si separa molto facilmente allora facendo un po' di analisi la parte della punta che è la parte più grassa la parte più marezzata è buonissima mi sembra perfetta ha un buon gusto affumicato l'esterno anche crocantino salatino peppato è molto buono quindi questa parte più grossa più grassa mi sembra spettacolare la parte piatta invece quella un po' più sottile mi sembra invece che mi sia venuto un pochino secca quella parte è già abbastanza secca di suo quindi è difficile che venga umida succosa come l'altra tutto sommato direi che la parte del piatto non è male cioè mi è venuta un pochino secca per i miei gusti ma è ancora abbastanza umida per quel taglio e comunque mi piace io magari alla fine aggiungerò qualche salsina in modo da rendere un pochino più succosa e non è neanche così secca ne ho mangiato di molto peggio quindi a dirla viretana mi sembra che mi sia venuta perfetta la parte del flat dovrò cercare di capire un pochino meglio come fare farla venire un pochino più succosa credo che forse l'ho pulita un po' troppo ho tolto un po' troppo grasso da quella parte e già il pezzo che avevo non era molto grasso in quella parte quindi può darsi che sia stato questo un po' a seccarla o forse un po' di temperatura insomma vedremo la prossima volta cercherò di regolarmi un po' meglio e vediamo come viene sono comunque molto contento perché alla fine la parte che piace a me e la parte che mi interessa è quella della punta la parte della punta invece mi sembra perfetta è venuta molto molto buona molto succosa il grasso si è sciolto benissimo è tenerissima ok direi che è questo tutto per oggi io vado dentro a mangiare il mio brisket come al solito se vi è piaciuto il video lasciate un commento iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace grazie ciao ciao